Riecco al nostro consueto appuntamento del giovedì, il video della settimana, ancora una volta si focalizza su un nuovo dato macro, su un nuovo report che è stato rilasciato proprio prima di Natale. Parlo del PCI relativo al mese di novembre che è stato pubblicato nella giornata del 22 dicembre e sembra che Babbo Natale anche questa volta abbia voluto premiare i trader e gli investitori, ma andremo a vedere tutti i dati relativi al report dopo la nostra silla. Ciao Riecco, ti qua, bentornato. Come ti anticipavo nell'introduzione del video, anche questa settimana abbiamo un nuovo dato, un nuovo numero da discutere, un numero che fa riferimento all'inflazione, in particolare a quella misurata dal PC Index. Questo è un altro indicatore che viene utilizzato insieme al CPI, questi sono i due più importanti almeno, per misurare appunto le variazioni dei prezzi negli Stati Uniti d'America. C'è da dire che questo PCI in realtà viene seguito con più attenzione da parte della Banca Centrale rispetto al CPI, in particolare per quanto riguarda la sua componente core, ecco perché questo documento era atteso con impazienza, diciamo, forse anche un pochino di preoccupazione. Un report che è arrivato tra l'altro prima della pausa di Natale, visto che ovviamente lunedì i mercati erano chiusi, adesso ci saranno nuovamente le festività relative al Capodanno, quindi ancora qualche giornata, diciamo, con la pancia piena per Wall Street. Ma quello che è stato pubblicato è sicuramente molto interessante, è stato qualcosa di gradito da parte del mercato, visto che abbiamo avuto una decrescita per la prima volta dal 2020 del valore headline, almeno per quanto riguarda appunto la comparazione mensile. Infatti, per la prima volta, come dicevo, dal 2020 abbiamo avuto un meno 0,1%, quindi un valore con il meno davanti appunto sicuramente qualcosa di molto atteso, perché appunto va a confermare poi quello che è stato un po' l'andamento dell'inflazione in questo 2023. Ripeto che questo decremento, questa decrescita, fa riferimento al paragone rispetto al mese precedente, quindi non è un mese su mese, ma piuttosto un paragone rispetto al periodo precedente, quindi il PC fa riferimento a novembre, il paragone è con il mese di ottobre. Si tratta comunque di un dato sicuramente importante, visto che non avevamo un decremento dal 2020, torniamo indietro ai tempi del corona, tempi molto difficili, non soltanto, non tanto per il mercato azionario, per i mercati finanziari, ma soprattutto per l'economia reale. Andando invece a vedere il paragone diciamo anno su anno, o meglio tornando indietro di 12 mesi, abbiamo avuto una crescita del 2,6%, comunque inferiore rispetto al 2,9% del mese precedente, con la registrata ottobre. Vediamo quindi che la soglia critica, soprattutto a livello psicologico del 3%, comincia ad allontanarsi e si avvicina invece il target del 2%. Fra le altre cose questo 2,6% rappresenta il livello più basso dal febbraio del 2021. Il tasso core, che è quello seguito con più attenzione dalla banca centrale perché, come ho ripetuto più volte, va a escludere quelle componenti più volatili o collegate a stagionalità, ovvero energia e alimenti, è cresciuto di appena lo 0,1%, quasi piatto. È comunque un dato che è stato in linea con le stime. La crescita invece rispetto agli ultimi 12 mesi è passata dal 3,4% di ottobre al 3,2% di novembre. Anche in questo caso si tratta di un decremento importante, siamo ancora sopra la linea rossa del 3% e ancora un po' più lontani per quanto riguarda l'obiettivo del 2% rispetto al valore. Anticipavano nell'introduzione che si tratta di dati che sono stati benedetti, diciamo, da Wall Street perché vanno poi a rafforzare quella che è la narrativa dominante in questo momento fra gli investitori e fra i trader che vede un primo taglio dei tassi di interesse a marzo, entro il primo trimestre del prossimo anno, del 2024. C'è ancora una volta una divergenza fra quello che il mercato si sta aspettando e quello che la Banca Centrale invece ha fatto trasparire almeno a parole, nel senso che c'è stata sì l'apertura di Powell e di altri governatori della Fed al taglio dei tassi, ma allo stesso tempo hanno anche rafforzato l'ipotesi dell'Higer for Longer. Quindi questi tagli potrebbero anche arrivare, ma si tratterebbe di tagli comunque contenuti, ma psicologicamente diciamo che per gli investitori e per il mercato questo rappresenterebbe un primo step, un primo passo verso un benchmark più basso rispetto a quello attuale. La differenza non è di poco conto fra le attese del mercato e quello che la Fed ha detto, visto che il mercato sta scontando, o meglio non scontando, si aspetta, ecco addirittura fino ai 7 e gli 8 tagli nel corso del 2024, la Fed è ferma invece ad un numero molto più basso, si parla di 2-3 tagli comunque di entità ridotta. Le proiezioni invece della stessa Banca Centrale per quanto riguarda il PC Core vedono questo valore intorno al 2,4% entro la fine del 2024, quindi entro la fine dell'anno che comincerà appunto a breve, questo valore potrebbe essere ancora sopra il target appunto della Banca Centrale. Potremmo vedere con un numero più basso o una decrescita, un calo ecco più rapido se dovesse arrivare con una recessione, una recessione nei primi 3-6 mesi dell'anno che andrebbe appunto a colpire quindi i consumi, questa è tra virgolette la speranza di Wall Street in realtà, quindi vedere un decremento più veloce, quindi un ritmo più rapido rispetto a quello che la Banca Centrale vede in questo momento, in modo da poter avere poi dei tassi di interesse più bassi rispetto a quelli che Powell ha preventivato per il corso del 2024. Diciamo che questa è un'altra tessera ecco del mosaico, del puzzle macroeconomico, un'altra tessera che va a incastrarsi in maniera perfetta in quella che è stata appunto la narrativa degli ultimi mesi, per vedere questa narrativa diciamo distruggersi, scomporsi, dovrebbe arrivare un dato davvero scioccante che a questo punto sembra abbastanza improbabile guardando ai numeri degli ultimi mesi. Discorso un pochino diverso per quanto riguarda la recessione, nel senso che in questo caso Mercato e Powell sono allineati perché entrambi continuano a sostenere la tesi dell'atterraggio morbido. Se dovesse arrivare invece uno shock in questo senso, con una recessione violenta e profonda, almeno ecco nel breve termine potremo avere poi una reazione scomposta da parte dei mercati. Ma attenzione anche in questo caso perché poi crisi economica e crisi dei mercati finanziari non concidono, nel senso non si spostano, non si muovono nello stesso binario. Potremmo quindi vedere un'economia ancora in difficoltà e un mercato azionario che invece è già ripartito. Mercato azionario che fra l'altro continua a fare molto bene, nonostante gli indici e i titoli leader siano molto estesi ormai. Mercato che continua a cercare l'attacco appunto nell'area dei massimi, sia nel caso del Triple Q, SP500 e anche le small cap cominciano appunto, hanno cominciato già ad uscire ecco da questa fase laterale, cercano di puntare ai massimi anche in questo caso, che dura da diversi mesi, davvero da parecchi mesi. Un mercato quindi dal tono ottimista, positivo, in questo finale di 2023. 23. Attenzione a non farsi prendere dalla FOMO, nel senso che va bene vedere i mercati che salgono, va bene vedere questa positività, questa euforia, ma servono ovviamente i setup, servono gli SBP. Quindi sempre massima attenzione, bisogna seguire il proprio piano, ovviamente avere poi un metodo da seguire. Va bene, questo era tutto quello che c'era da dire sull'ennesimo aggiornamento macroeconomico di questo dicembre 2023, un mese davvero ricco di eventi. Abbiamo discusso questi dati, i dati più importanti in realtà, quelli utili che davvero servono nei vari webinar riservati del lunedì. Ci sono ancora poche giornate, in realtà soltanto una fino alla fine di questo 2023, quindi è già tempo ormai di guardare, ecco, diciamo, all'anno nuovo. Meglio farlo dal punto di vista del Raptor, sicuramente, quindi non esitare a richiedere informazioni sui percorsi disponibili appunto all'interno del TPRi e metti un bel mi piace, iscriverti al nostro canale nel caso questo video sia stato di tuo gradimento. Anche i commenti sono più che benvenuti, sia sotto questo video che all'interno della community Facebook, quindi nel caso non ne faccio ancora parte, non dimenticarti di iscriverti. Ti saluto ancora una volta, ti ringrazio per la tua attenzione e colgo anche appunto l'opportunità per farti gli auguri di buon anno, un buon 2024 e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!